C'è l'Abruzzo di Villetta Barrea che spopola sui social con i frequenti video in cui i cervi passeggiano per le vie del paese sotto gli occhi ammirati dei turisti giunti appositamente per ammirare un'atmosfera quasi fiabesca. E poi c'è l'Abruzzo della Giunta Marsilio che con una delibera agostana autorizza l'abbattimento selettivo di 500 esemplari di cervo per contenerne la popolazione in quella che viene propagandata come la Regione Verde d'Europa. Una scelta che nonostante la distrazione delle ferie estive di molti non è passata inosservata e contro la quale in poche ore si sono schierati i cittadini, associazioni ambientaliste e partiti politici compresi i forzisti azzurri che pure fanno parte dei ranghi dell'attuale maggioranza di governo regionale. E mentre in queste ore la petizione online del WWF per la revoca della delibera continua a raccogliere firme aumenta il coro di chi protesta contro quella che Maurizio Cerbo, segretario nazionale di rifondazione comunista, chiama senza mezzi termini la caccia al cervo, frutto di una visione miope del governo Marsilio e di clientelismo venatorio. C'è una pressione della lobby dei cacciatori, molti di quali sono anche agricoltori, che preme da anni per riaprire la caccia al cervo. Non è una novità, non è che adesso c'è un'emergenza per una caccia al cervo. Questo tentativo è partito nel 2012 e allora era l'assessore Mauro Febbo che adesso non mi risulta sia stato neanche rieletto e all'epoca dovetti fare un ricorso al collegio delle garanzie statutarie, poi l'ostruzionismo in aula e alla fine bloccammo quel tentativo. Poi è arrivata la giunta da Alfonso, non c'era più rifondazione comunista, non c'era più neanche Walter Caporale e De Verdi che faceva su questi temi un'opposizione tenace. Tutto è passato in cavalleria ed è stato approvato un regolamento praticamente analogo a quello che Febbo e Chiodi non erano usciti ad approvare. Dopo la delibera giunta da Alfonso arriva nel 2020 il piano che inserisce quindi la previsione di una gestione venatoria. Si fissano dei parametri che, guarda caso, si ritengono essere stati superati, adesso ci sarebbe un'emergenza e quindi bisogna abbattere i cervi. In realtà è stato tutto preordinato per arrivare a sbloccare la caccia ai cervi perché c'è una pressione di questa lobby evidente. Io ero consigliere regionale e veniva tutti i giorni qualcuno a premere in questa direzione. Insomma è una cosa abbastanza nota, è un pacchetto di voti organizzati, un po' come è accaduto per le spiagge con i balneari. Quando ci sono lobby organizzate la politica non è in grado di dire no, a volte anche a richieste assurde come quella di costruire ovunque e dovunque. Al posto di pensare ai tanti problemi che hanno gli abruzzesi per curarsi o per la crisi idrica, si pensa a come raccattare un po' di voti clientelari dai cacciatori, continua il segretario di rifondazione concludendo che con questa delibera miope... Si fa un danno all'immagine della nostra regione, a un patrimonio naturalistico, non si è programmato come aiutare l'agricoltura che comunque riceve dall'Europa e dalla regione sostegni non da poco e alla fine noi ci spariamo sui piedi danneggiando la nostra regione. Invito Marsiglia a un serio ripensamento, ritiri questa delibera, approfondisca il tema perché è davvero una mossa imprudente.